Buongiorno a tutti, stiamo facendo un reportage da un centro tessile per la scelta di tessuti per la nostra prossima puntata. Stiamo cercando nello specifico dei pizzi per una trasformazione di quest'abito nero e poi dello spinato per la trasformazione di un pantalone che può essere anche un daino. Andiamo alla ricerca. Ma ci siamo persi Cristina. Cristina dove sei? Eccomi. Eccola. Qui veramente è un casino. Possiamo dormire qui. Ci dovevo dormire qui. Cerchiamo prima il pizzo insieme, sennò ci perdiamo, che ce ne sono veramente miliardi. Che dici? Eccola qua. Guarda che bello. A me piace tanto. Bello, un pizzo elasticizzato. Si potrebbe fare qualcosa. Che dici? Ne proviamo un... Sì. Proviamo un metro a prendere. Sì, molto bello. Ho trovato anche un tessuto per me. Vole un abito per la festa di Capodanno. Mi devi portare via di qua perché sennò mi innamoro di tutto. Mi fa un abito per la festa di Capodanno. Eh certo, assolutamente. Abbiamo già scelto il tessuto. Ecco, vi faccio vedere il tessuto. Vi piace? Sarà veramente uno spettacolo. Poi dopo ci mettiamo sul nostro sito, la pagina Facebook che andate a visitare, un po' di disegni. Così scegliamo insieme a voi il modello. Una intera giornata qui a scegliere tessuti. Andiamo a vedere a che punto sta Alessandra. Alessandra? Abbiamo trovato lo spinato perfetto per questo disegno. Meglio di così. Chi ci ha aiutato? Questo carinissimo ragazzo. Fai un saluto. Lei è una stilista di Accademia della Moda di Roma. e si chiama Maria. Allora vi faccio vedere Alessandra. Alessandra, saluta. Buonasera. Buonasera a tutti. Siamo qua per scegliere delle pelli, dello spinato e anche dei pizzi. Ecco. Non sono tanto brava ancora a fare video. Mi gira la testa. Maria sta meditando sui tessuti. Lavoro bolle, eh? Bolle. Ecco, abbiamo trovato anche un tessuto da Mila e Una Notte. Un tessuto molto hard. No, non lo diciamo. Perché io lo diciamo. Ciao! Vi saluto! Buonasera a tutti. Grazie a tutti